Come comportarsi coi parenti serpenti Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Oggi si parlerà di un argomento molto richiesto Ho voluto temporeggiare perché è un argomento molto delicato Però insomma mi sono decisa perché le vostre richieste sono davvero insistenti Come gestire i parenti difficili? Totò diceva i parenti sono come le scarpe più sono stretti e più ti fanno male Se questo argomento vi interessa fatemelo sapere con un pollice in su Così potrò regolarmi per la creazione dei video futuri E per i nuovi arrivati grazie per la visione dei miei video Per non perdere i video futuri vi invito ad iscrivervi al canale Nell'arco della mia vita direi che sono a metà strada Infatti oggi compio 40 anni Perdonate il mio ego, potevo anche evitare di dirvelo Ma sono felice di arrivare a questo grande traguardo della mia vita 40 anni Mai avrei pensato che i 40 anni potessero essere così belli, interessanti Mai avrei pensato che a 40 anni avrei potuto capire molto più di me rispetto ai 30 Ma torniamo a noi Nell'arco della mia vita ho avuto l'opportunità di conoscere persone Delle care amiche ma anche dei conoscenti Che hanno perso la loro salute mentale Per via di un rapporto velenoso con i parenti Altre persone hanno dovuto dire addio addirittura al loro matrimonio Per via di un rapporto sbagliato con i parenti Se da un lato i parenti possono essere un vero aiuto, un valore aggiunto Una benedizione nella vita di una persona Dall'altro lato alcuni parenti possono distruggere intere famiglie Alcuni scenari non vedono un buono e un cattivo È proprio un problema di comunicazione, di comprensione tra i parenti Si mettono in atto quasi inconsciamente delle situazioni di competizione, di rivalità Con alcuni parenti si tende proprio a fare una gara E tra gli argomenti più scottanti in famiglia ci sono quasi sempre i soldi A volte alcuni screzzi tra parenti, a volte una frase ambigua Può influire sull'umore di una persona rovinando addirittura la sua giornata Se il problema o l'incomprensione non viene risolta nell'immediato Questo rapporto velenoso può diventare cronico Distruggendo completamente la salute mentale della persona E allora come comportarsi con i parenti difficili? La famosa e tanto chiacchierata suocera oppure i rapporti tra cognati? Sapete che io amo moltissimo guardare video su YouTube Prima di essere una YouTuber io sono un utente E tra i video che preferisco guardare ci sono quelli relativi alle storie vere delle persone Mi ha molto toccato la storia controversa della conduttrice TV Oprah Winfrey con la madre E una cosa che ho capito e ho realizzato molto bene Guardando anche le esperienze della mia vita e delle persone che mi circondano È che prima di tutto il perdono richiede molta più forza e energia rispetto all'ira Arrabbiarsi è più facile, portare rancore è più facile che perdonare Perdonare è molto difficile perché perdonare è accettare E in alcuni casi perdonare è dimenticare E non sempre è possibile farlo soprattutto in quel determinato momento Arriverà però un momento in cui noi saremo davvero pronti a perdonare E quello sarà il momento in cui il vostro corpo e la vostra psiche vi diranno grazie Perché portare rancore e portare risentimento farà male soltanto a voi stessi Arriviamo ai consigli pratici La cosa più importante di tutte è far capire chi siete ai parenti Non abbiate paura di esporvi Non abbiate paura di dire il vostro pensiero Se alle basi c'è il rispetto e il buonsenso Non vedo perché si debba nascondere il proprio essere davanti ai parenti Per timore di venire giudicati A volte ci vuole molto impegno Ma cercate di dire il vostro pensiero con autorevolezza E allo stesso tempo con gentilezza È importante che voi usciate dal ruolo passivo E per farlo dovete essere coesi col partner Nel mio libro, nella sezione dedicata al buon ton C'è una pagina, se non erro, pagina 125 Dove parlo proprio dei rapporti in famiglia Eccola qua Mi è successo tante volte di vedere un partner tra due fuochi Ad esempio, non faccio riferimento a nessuno che conosco Un marito tra la moglie e la madre È una cosa che non deve mai accadere Perché è veramente il principio della distruzione del rapporto È importante che i due partner siano coesi Perché hanno creato un nuovo nucleo familiare E quindi il partner deve essere dalla vostra parte A meno che non abbiate fatto un errore clamoroso Evidente agli occhi di tutti Quello è un altro discorso Però 99 volte su 100 il partner deve essere dalla vostra parte Questo è necessario per rappresentare e definire il vostro nucleo familiare Un secondo consiglio è pianificare in anticipo i momenti di aggregazione È importante se avete ad esempio dei figli Ma anche se non li avete Che comunque si coltivi un minimo rapporto Un certo rapporto con i propri parenti Si può pianificare ad esempio un pranzo della domenica Fare a volte anche dei giochi Può portare allegria e giovamento al rapporto con i parenti Lo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli Dice una cosa molto interessante Alcuni rapporti funzionano solo a distanza E allora se sappiamo che quel rapporto può funzionare solo in questo modo E decidiamo che la distanza è la cosa migliore per la salute e l'integrità del nostro nucleo familiare Cercate di mantenere la coerenza Siate coerenti Cioè se volete mantenere a distanza Vi faccio un esempio banale La suocera Non chiedetele di tenervi continuamente i figli A volte bisogna fare qualche sacrificio in più E stringere i denti per salvaguardare un rapporto Se non si stabiliscono delle regole e dei paletti Si rischia ad esempio con parenti che abitano vicino Di avere i parenti continuamente in casa È quindi importante scegliere una fascia oraria In cui possiamo accogliere sia parenti che amici Ad esempio la domenica pomeriggio Sempre con previo avviso ovviamente Oppure il venerdì sera Cioè concordate e programmate sempre in anticipo i momenti di aggregazione In questo modo ridurrete al minimo le situazioni di disagio Le situazioni di intrusione Ovviamente questo video era anche una scusa Per conoscere il vostro parere Per leggere qualcosa delle vostre esperienze Se vi va scrivete il vostro parere qua sotto nella sezione commenti Il video non sarà completo se non ci sono i vostri commenti Vi ringrazio per la visione di questo video E spero almeno un pochino con quelle che sono le mie esperienze fino ad oggi Di avervi ispirato Di avervi dato qualche idea in più Io vi ringrazio come sempre per la stima Questo per me è davvero importantissimo E grazie a voi se il canale è cresciuto Sta crescendo così tanto E alla vostra fiducia Io allora adesso vado a fare i preparativi per il mio compleanno E noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao